Ringraziamenti, perché la vera, il vero collante è stata Icabella, perché un mese fa parlando, mi ha detto, vuoi che proviamo a fare un incontro, proviamo, parlare si può, è stata lei che veramente ci ha messo l'ambito di nessuno, assieme ringrazio lei, tutta l'amministrazione che ogni volta che c'è bisogno, nel limite delle loro prossimità, di sua disposizione, ringrazio la dirigente, la madonna Daniele, che anche lei andiamo a rompere le scatole, le convenzioni, il campo, la comanda di lavoro è sempre disponibile, quindi tutti insieme dobbiamo fare. Grazie.